Oggi vorrei proporvi un programmino basato su una tecnica di Giuseppe Pezzella. Parliamo ancora di trapezio esoscele. Vediamola questa tecnica. È stata pubblicata nel 1999 su Estrazione dell'Otto, una rivista che a me piaceva molto, anzi credo di averla fatta io questa fotocopia. E appunto Pezzella propone questa tecnica, come vi dicevo, basata sul trapezio esoscele, uno dei più usati. E in effetti è vero, anche tuttora. Fa una breve introduzione, poi arriva il dunque e dice uno dei quadrati più usati è stato, e lo è ancora, appunto il trapezio esoscele. Esso si può formare in due modi, con due ambi di distanza uguale oppure con due ambi di somma uguale. Quindi sfruttando il primo modo, cioè due ambi con distanza uguale, vorrei sottoporvi alcuni accorgimenti applicati a delle teorie dei due autori sopra menzionati. I due autori sono Scaravetti e Ciro Vitale. Riporta l'esempio dove abbiamo avuto a Genova il 57-56, a Napoli il 18-19, quindi abbiamo due somme uguali, scusate, due distanze uguali in orizzontale e due distanze uguali in diagonale. Quindi vedete che abbiamo il 57 e il 56 che è distanza 1, il 18-19 è distanza 1, poi abbiamo il 57-19 che è distanza 38 e il 56-18 che è ancora distanza 38. Di conseguenza abbiamo una somma uguale, data da 57 più 18 e dal 56 più 19 che è da 75. Quindi questo 75 lui lo va a sommare uno per uno i quattro elementi rintracciati, quindi abbiamo 75 più 57, più 56, più 19, più 18. A questo punto lui dice rintracciamo sulle due ruote basi e o su una terza ruota un ambo tra il 42, il 41, il 4 e il 3. Cioè da queste somme 42, 41, 4 e 3. La ricerca è valida fino a 5 estrazioni precedenti su tutte le ruote e fino a 7 se il controllo si vuole fare solo su due ruote basi. Quindi abbiamo la possibilità di giocare o su tre ruote o su due ruote. In questo caso si trova due estrazioni precedenti sulla ruota base di Napoli, quindi giocheremo su due ruote, l'ambo 41, 4, ok? 41, 4. Con distanza 37. Il 41, 4 è scaturito dalla 75 più 56 e del 75 più 19. Quindi prendiamo il 19, 56, lo mettiamo in quadratura, quindi 19, 56, 41, 4. Abbiamo una somma comune pari a 60 e queste sono le somme orizzontali e diagonali. Da qui scattoresce la previsione che è Genova-Napoli 60, quindi la nostra somma comune, più gli abbinamenti che sono dati dalle somme. Quindi, dopo 5 colpi su Napoli vengono restratti il 60 e il 45. Attenzione, lui dice, l'ambo di ricerca trovato su Napoli abbiamo visto che era il 41, 4, ok? Quindi dalla somma si ottiene il 45. Questa parte è molto interessante e anche divertente. Lui dice, è chiaro che la somma dei due elementi dell'ambo di ricerca sarà sempre un numero presente nei risultati della quadratura. Ebbene, qualora questo numero non risulti presente nelle due ruote, nelle estrazioni precedenti, nei successivi sette colpi ci sarà l'87% di probabilità che lo stesso venga estratto. L'importanza che assume questo numero nei possibili esiti futuri, virgola, chi vuol capirla, puntini, 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 la capisca, punto esclamativo. Cioè, sembra quasi una minaccia. Quindi lui conclude questo articoletto, carino, con un punto esclamativo. Evidentemente era molto, molto convinto di questa sua osservazione. Bene, questa è la tecnica. E questo è il programmino. Quindi io non ho fatto altro che rimanere fedele a quanto è scritto nella tecnica. Non ho fatto altro che aggiungere la possibilità di selezionare solo ambi uniti oppure solo ambi isotopi. oppure selezionare determinate distanze, cioè quelle distanze, quelle ripetute. Quindi come nel programma che vi avevo già fatto vedere sull'altro trapezio di Fabari, anche qui ho inserito la possibilità di selezionare solo distanze ripetute pari a 9, 15, 18, 27, 30 e 36. L'utilizzo è semplice. Ve lo spiego comunque per chi ancora non ha abbastanza dimestichezza con i due riquadri. Quindi noi abbiamo all'apertura del programma i due quadri razionali posizionati sulla stessa estrazione. Quindi abbiamo distanza 0 tra uno e l'altro. E già qui ci propone delle previsioni, ok? Ma possiamo, come diceva il pezzella, fare delle ricerche a ritroso. Quindi se io premo calcola, lo va indietro fino a trovare la prima previsione utile. Questa e poi questa. Posso rifare calcola e continuare a andare a ritroso. Non oltre mi pare le 5-7 estrazioni, come diceva il pezzella. Ok? Quindi poi posso sfruttare indietro con questo, faccio reset e rifaccio l'operazione. Per esempio la previsione di ricerca. Beh, lo vedete anche voi, le previsioni sono tante che si possono ricavare. Possiamo fare una selezione. Qui non abbiamo addirittura niente, solo ambi uniti e solo ambi esotopi. Non troviamo niente. Qui. Ne troviamo una quattro estrazioni prima. E come vedete abbiamo solo... E gli ambi uniti esotopi fanno riferimento solamente alla struttura di base. Gli ambi di ricerca possono essere anche non uniti. Ok? E basta. Provatelo se vi piace. Io ho notato su particolari strutture che insomma è abbastanza interessante. Vi faccio un esempio. Per esempio, in questa estrazione, cioè parlo del 16 febbraio e in quest'altra del 15 febbraio, qui in distanza di un'estrazione, c'era questa previsione. Ok? E quest'altra previsione. Allora, fate un attimino di attenzione. Vedete che abbiamo il 2377, che è un ambi, chiamiamolo base. Poi trova il 7 e il 43, per formare il suo trapezio, ma trova anche l'88 e il 52. L'88 è il diametrale del 43, 52 è il diametrale del 7. Ne scaturisce che queste due previsioni hanno una distanza uguale a 36 e l'altra distanza sommata da 45. Otteniamo praticamente una terzina simmetrica. Qui abbiamo il 35 anziché l'80 e qui abbiamo il 71 diametrale del 26, qui abbiamo l'89 diametrale del 44. E ne esce questa previsione, dove abbiamo l'80 ambata, il 20 è il numero che diceva il pezzella, quindi quello che merita attenzione. Infatti viene colorato di arancione, invece gli altri in giallo, quindi questo 20, cioè quando trovate, faccio un altro esempio, neanche a farlo opposto non trovo niente. Insomma, quello colorato in arancione è l'abbinamento principale, quindi l'80 e 20 era l'ambo secco principale, che secondo me, eccolo qua, esce anche a tutto, infatti anche qui l'abbiamo avuto al quarto colpo, 80 e 20, ambo tutte, oltre appunto a questo possiamo dire eterno, quindi è uscito l'80, il 20 e il 50. Niente, questo è un piccolo esempio, quindi voi avete a disposizione il programma che vi permette di andare a, diciamo così, spulciare determinate strutture che possono dare esiti, diciamo, molto molto interessanti. Solito, giocateci un po' e poi valutate se prendono in considerazione oppure cestinarlo. Io penso di avervi detto tutto sul trapezio e di chiudere qui il discorso. Tempo fa vi ho proposto il trapezio di Fabarri, ora quello di Pezzella. se trovo qualcos'altro di interessante sempre basato su questo tipo di struttura non farò altro che condividerlo con voi. Ora vorrei aprire un discorsetto giusto per togliermi questa bella soddisfazione se lo trovo. Allora, io tempo fa vi avevo fatto un video proponendovi questo programma ciclometria penso quattro mesi fa circa. qui siamo al 21 ottobre dove vi avevo fatto notare questa particolare struttura che si era creata a quell'epoca. Quindi questo programma mette in gioco due ambi secchi più eventualmente l'ambata 12. Però se vi ricordate per chi ha visto il video in questa particolare occasione nella stessa data di calcolo della previsione avevamo la presenza dell'ambo 3381 che era oggetto di previsione. Quindi avevo fatto la semplice considerazione di dire se il 3381 è già presente nell'estrazione di calcolo quindi se è già uscito mi aspetterei, dicevo, l'uscita magari del 57 abbinato al 78 e al 36. E in effetti così è stato al secondo colpo è uscito il 57 abbinato al 36. Avevo espresso anche poi successivamente dopo l'uscita del 57 e al 36 il desiderio di vedere uscire comunque l'ambo 78-36 quindi l'unico l'ambo secco 78-36 e così è stato adesso non mi ricordo al quindicesimo colpo è uscito l'ambo secco 78-36 e abbinato al 33 ma questo è un'altra storia. Quindi 78-36 bene, questo è giusto per aprire un attimo il discorso e posso chiudere questo. Il bravo, buon amico Alfio mi manda questa mail io non credo si offenda se la pubblico dove abbiamo sempre lo stesso programma dove mi fa notare questa struttura dove mi fa notare che un ambo oggetto di previsione in questo caso il 24-18 era uscito 4 restrazioni prima sulla ruota di Cagliari quindi riprendendo il discorso che vi ho fatto prima dovevamo aspettarci l'uscita del 69 e del 63 ambo secco Bari, Cagliari, Napoli ok? Giovedì 9 maggio ambo secco 63-69 mi piace anche leggere questa la ciclometria che piace a noi ok? quindi veramente questa è ciclometria come la intendiamo noi e come piace a noi vi faccio vedere la previsione in questione quindi abbiamo detto che era questa quindi la data di calcolo era il 3 febbraio 4 restrazioni prima era uscito il 24-18 mancava il 69-63 e il 69-63 si presenta dopo 10 colpi a Cagliari ambo secco ok per me queste sono piccole soddisfazioni che stimolano la continua ricerca su questo bellissimo gioco quindi giusto per stare in tema vorrei concludere se tanto mi da tanto mostrandovi questa situazione ricavata con ciclometria 2 dove abbiamo nell'estrazione tra il 17 e il 16 di febbraio questa struttura dove abbiamo a Bari il 74-26 a Cagliari nell'estrazione successiva il 71-29 nella stessa estrazione a Bari il 53-47 e nella stessa estrazione abbiamo il 50 e il 5 cosa manca? manca il 2-8 ora anche qui esprimo il desiderio di vedere l'uscita dell'ambo secco 2-8 Bari Cagliari Nazionali ed eventualmente tutte può dare che anche in questo caso si abbini o al 50 o al 5 però la mia il mio desiderio è di vedere l'ambo secco 2-8 bene io penso di aver finito un saluto a tutti